Benvenuto negli studi di Temporadio a Monsignor Gaetano Fontana, Abate di Montichiari. Bentornato nei nostri studi, Monsignore. Grazie e buona giornata a tutti. Buona giornata a lei. Allora cominciamo subito con ricordare agli ascoltatori che sono invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo alcune coordinate, il numero per mandare sms e i messaggi whatsapp, che è il 338 17 19 105, per telefonarci fatelo 037663 17 09, l'indirizzo mail è diretta a chiocciolatemporadio.it e poi vi invitiamo a usare la pagina Facebook e quella del Gazzettino Nuovo e Temporadio. Allora, Monsignore, in questo periodo quali messaggi sta mandando la Chiesa fondamentalmente anche in base a quello che dice il Papa? Stamando spero che continui come sempre a mandare messaggi di pace e di incentivazione per un bene, per una vita comune, per una vita più serena e tranquilla, anche in mezzo a tutte le difficoltà che ogni tempo e ogni storia porta con sé. Penso proprio anche alla prima lettura della liturgia, la parola della messa di questa giornata, dove il Coelè dice vanità da davanti a tutto è vanità, c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piangere, un tempo per ridere. È il segno che noi dobbiamo stare attenti a come vivere il tempo dell'oggi, che non è una successione, secondo la fede cristiana naturalmente, e l'aspetto biblico, non è semplicemente una successione di tempo e di orologio, e quindi è un tempo cronologico, ma è uno spazio per creare relazioni, relazioni con Dio e tra di noi. E penso che la Chiesa abbia questo grande compito in mezzo a una storia veramente complessa, provocata anche, sono convinto sempre di più, dall'egoismo e della libertà dell'uomo di vivere sul suo ombelico, mi passi questa espressione. C'è un'autoreferenzialità che è terribile, quindi ognuno di noi pensa di essere l'unico che è al centro di tutto e deve essere al centro di tutte le attenzioni di tutti. E allora la Chiesa è invitata dalla parola di Dio, dal Dio stesso, a portare questo messaggio, che non è semplicemente un messaggio, ma spero che sia sempre di più una testimonianza di vita, legata proprio a un andare oltre i propri limiti, l'anno della misericordia, negli ultimi mesi delle sue battute, ce lo sta dicendo sempre di più, che Dio va oltretutto ma ci prende sulle sue spalle e ci conduce. Basta che noi ci lasciamo prendere sulle spalle di Dio, questo è il fatto della libera dell'uomo. Certamente, stavo riflettendo su un messaggio che ricevette, credo due anni fa, forse magari se lo ricorda, in cui c'era un ascoltatore che insisteva, a tale proposito, noi chiedere, ma perché alcune persone insistono nel voler fare soldi? Adesso prendiamo da un fatto, non ci schieriamo né da una parte né dall'altra, ma per esempio il sindaco di Roma dice siamo uno dei comuni più indebitati del mondo e non si parla neanche di fare le Olimpiadi da noi. E questa è la sua posizione. Altri che dicono no, bisogna farle, perché assolutamente è una questione di prestigio, eccetera, però guarda caso, tra questi nomi ci sono dei soliti noti che sono rimasti coinvolti in una nota azienda che produce automobili, un settore di autocorse, eccetera, eccetera. Ecco, mi ricordo questo ascoltatore che diceva ma perché queste persone continuano a lavorare per avere denaro fondamentalmente, sempre di più, che se anche vivessero duemila anni non riuscirebbero a spenderlo, tanto ne hanno, obiettivamente. E' perché c'è questa autoreferenzialità, non guardano un bene comune, ma guardano il bene personale. Io penso che quando Gesù dice nel Vangelo ma prima di guardare la pagliuzza che è nel tuo fratello, guarda la trave che è nel tuo, togli la trave che è nel tuo e poi potrai guardare meglio la pagliuzza del tuo fratello. E signor che tante volte dobbiamo imparare, non tante volte, ma dobbiamo sempre imparare a guardare molto quello che io ho come prospettiva di vita. Non voglio continuamente ripetermi, ripetere sulla parola di Dio, per domenica scorsa il Vangelo dell'amministratore disonesto. Perché è stato lodato? Perché ha detto con scaltrezza, ha usato delle cose, del contingente della realtà che può essere il denaro, che può essere, ma per poter condividere. E questo è il fatto, e questo passaggio non è assolutamente né automatico né storico di oggi, ma è una realtà che dobbiamo imparare. Ciò che io ho, la mia vita non è fatta per accumulare, perché la morte stessa ce lo dice che tutto lasciamo, ma la mia vita è fatta per essere in relazione, per essere dono, per essere in comunione, questo è il fatto. Posso permettermi, Paolo, aggiungo una cosa che mi preme, perché è una riflessione che costantemente in queste settimane, in questi mesi, continuo a fare. Se noi riflettiamo, ma con una limpidezza di sguardo, senza nessun occhiali a livello politico, a livello partitico, eccetera, però se ne guardiamo un attimo la realtà, vediamo che, qual è il male più grande di oggi? è che ci sono continuamente fratture nelle relazioni, relazioni di coppia, relazioni interne della famiglia, relazioni tra le persone che incontriamo, ognuno sta sul proprio piedistallo, e invece la relazione fa della mia vita una vita bella, di una bellezza che va al di là della propria fede, una bellezza che dice significato alla propria vita, altrimenti noi saremo sempre arrabbiati, infelici e incapaci di vivere in pienezza all'oggi. Infatti la prima cosa che si nota di questi VIP, come si suol dire, è che non compaiono sull'elenco telefonico, hanno il numero riservato, magari delle guardie del corpo, non c'è il loro nome sul citofono, eccetera, perché per non essere disturbati, quindi rifiutano le relazioni, se non all'interno di una cerchia ristretta, ma come vogliono loro, come vogliono loro, esatto, non in maniera spontanea. Allora, stavo guardando che sta ricevendo un bel po' di messaggi, fermiamoci un attimino con Monsignor Gaetano Fontana, Abate di Montichieri, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Nuove promozioni alla farmacia Giovannoli di Castiglione dell'Estiliere, promo viscia antietà, sconto del 50% sul secondo prodotto meno caro. Vici speciale capelli, sconto del 50% acquistando due confezioni fiale Vici Neogenique. Fito Paris, speciale capelli sconto del 20% su fiale Fito Logic e Shampoo Fito. In autunno è naturale perdere i capelli, prenota l'analisi del capello gratuita il 22 settembre e il 4 ottobre. Farmacia Giovannoli, a Castiglione dell'Estiliere, via Mazzini, telefono 0376 63 25 16, www.farmaciagiovannoli.it orario continuato dall'unidì a sabato dalle 8 alle 20. Chi dona il sangue può sentirsi orgoglioso di se stesso, poiché con il suo gesto ha salvato una vita. Dona il tuo sangue a chi ne ha bisogno. Donare il sangue non costa niente, basta avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni. Se vuoi essere anche tu orgoglioso di te stesso, lascia il tuo indirizzo e numero di telefono alla sede Avis di Castiglione, presso il centro di donazione di Via Ordanino. Telefono 331 52 01 165. Dona il tuo sangue. Sarai il primo ad esserne contento. È stato amore a prima vista. Lei bella, luminosa, con quei cerchi luccicanti. E poi... Mantieni la tua auto sempre pulita e igienicamente a posto, con il servizio fresco. Con noi c'è Monsignor Gaetano Fontana, Abate di Montichiari, e questa è la seconda parte di Fila Diretta con gli ascoltatori. Ha ricevuto tantissimi messaggi. Lei parlava, Monsignore, di questo appunto del significato della vita che è la relazione, la comunione e non accumulare, eccetera, no? Francesco scrive, vabbè, a parte sicuramente scherza, Francesco dice aiutare il prossimo, però mi sento bene per aver fatto del bene e questo non è bene, quindi allora è meglio che mi faccia gli affari miei a questo punto e amen. Eh, ma invece dobbiamo imparare un po' di più la gratuità nelle cose, senza aspettarci né il contraccambio né alcuni fini che possono essere sia a livello personale ma sia a livello di espressione pubblica. Io il bene lo vivo perché credo che con il bene nel bene la mia vita ha significato e senza aspettarmi nulla in contraccambio, altrimenti diventa tutto un tornaconto, allora è usare le cose, le persone per poter vivere. Questo non è gratuità, quindi il tema della gratuità penso che sia importante che ognuno lo decodifichi nella propria mente e nella propria vita soprattutto. Poi, Don Gaetano, buongiorno. Vabbè, salutiamo Michele che chiede perché c'è tanta cattiveria proprio nel mondo insensolato e poi mentre stava parlando appunto della gratuità e del creare relazioni è arrivato in quel momento questo messaggio Monsignor abbiamo il Papa che viaggia in metropolitana e politici che vanno anche al supermercato in elicottero addirittura. Questo è un... Ognuno traga le conseguenze, fasse le proprie scelte personali a chi aderire come spirito e stile di vita soprattutto. Certamente. Allora, altro messaggio. Scusi, ma perché certe volte la predica... Vabbè, qua usciamo. Di alcuni preti è lunga, insomma. Saluto Serena di Castiglione. Buongiorno Serena. Io posso rispondere a livello personale, non posso mettermi nei panni dei confratelli. Tante volte la predica può essere lunga perché o il sacerdote è stanca nel modo di dire ma ognuno di noi, ogni preta ha i suoi limiti oppure perché la gente non è disponibile ad ascoltare. Poi ognuno ha i suoi doni, i suoi carismi, quindi c'è il sacerdote che è piacevole quando fa la predica e altri molto di meno. Però penso che, anche se non è molto facile, lo capisco, però lo dico con convinzione, quindi non solo in teoria, dovremmo imparare ad accogliere quello che è il contenuto della predica. E io mi auguro, e spero che tutti i sacerdoti, anche perché il Papa Francesco si stimola continuamente, preparino l'omelia. Posso dire solo questo, dopo ognuno nella sua coscienza risponderà davanti al buon Dio su questa realtà che vive nel predicare e nel portare la parola di Dio masticata nella vita quotidiana. Questa è l'omelia. Magari anche non incolparsi troppo può capitare a un certo punto che uno viaggia col pensiero, ma questo succede anche a una lezione, per dire, magari da una cosa uno comincia a riflettere su una cosa che ha detto il professore, poi va via. Il professore continua a parlare, ma lui non va qui solo e non se ne accorge neanche, se non capita. Allora, perché? Dunque, vediamo un altro messaggio. Se la Chiesa parla, qualcuno si lamenta, se la Chiesa si lamenta del fatto che parli, se la Chiesa sta zitta, si lamenta del fatto che stia zitta, insomma, c'è solo polemica quando si parla di Chiesa. Salutiamo Anna. Sì, effettivamente, credo che questo... Anche se un po' per me è un discorso molto generale di vita per tutti, perché se io vado da una parte perché vado da quella, se vado dalla parte opposta perché vado dalla parte opposta, ognuno... Abbiamo proprio la mania di criticare. La critica per me è la realtà che al giorno d'oggi lavora alla grande nella nostra vita personale, e quindi, ripeto, riallacciandomi a quello che dicevo all'inizio di questo incontro, rovina le relazioni. Siamo capaci di criticare perché? Perché ci mettiamo sempre su un piedistallo. Siamo capaci di criticare perché pensiamo di dire sempre noi la verità in un giudizio che è il nostro personale, che diventa totalitario nella nostra vita. dobbiamo imparare invece a non tanto criticare, ma ad accogliere le cose che capitano nel farle diventare un'espressione anche di pensiero mio e di riflessione. La critica poi quando viene meno, alcuni aspetti perché effettivamente vedo io nella mia vita perché la bate sta zitto, allora vuol dire che è muso, perché parla, allora è troppo sorridente. Nella vita è così, insomma. Devi fare quella veri mezzo, giustamente, insomma. Ma scusi, ma se noi rinunciamo a criticare e poi cominciamo ad andare d'accordo, come si fa? Staremmo meglio tutti, no? Una cosa è il criticare, che non va bene. Una cosa è dire la propria. Se io devo dire quello che penso, questa è la libertà, nel rispetto dell'altro, certamente con molto amore, con molta verità e giustizia, però questo non è una critica, questo è dire la propria opinione. A proposito di osservazioni, un messaggio dice a Montichieri la Chiesa deve dire qualcosa sui matrimoni gay, siamo diventati il comune dei matrimoni gay, praticamente, dice. Penso che la Chiesa l'abbia detto chiaramente e lo ribadisco in questo momento a livello pubblico. Non hanno significato in sé i matrimoni gay perché il matrimonio ha una sua configurazione particolare. Rispettando certamente la scelta personale, ripeto che qui nella coscienza davanti a Dio stesso ognuno poi risponde. Però il fatto che si dica che una coppia gay possa celebrare il matrimonio o possa essere considerata come coppia di fatto, questo è un altro passaggio. Il matrimonio è una cosa, l'essere coppia o scegliere alcune relazioni diventa una scelta di vita. Giuridicamente, sì, certo. Vi chiedono anche perché non accogliete i profughi, voi. Mi è nuova anche perché so che ci sono un'accoglienza di un certo tipo di numero anche sostanzioso di profughi a Montichiari. Non capisco questa affermazione. Certo. Altro messaggio. Siamo proprio su Montichiari. Siamo circondati da tatuati, disorientati dal punto di vista sessuale. Persone che amano più un animale che un umano. Siamo alla fine e il Signore riuscirà a spazzare via il male? Ponte domanda? Posso, senza grazie del messaggio, ma rispondo con le parole di Gesù. E' questo che deve preoccupare di più. Quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede? E' rapidaria questa domanda. Non l'ho fatta io, l'ha fatta Gesù nel Vangelo. Io penso che il problema più grosso è che noi dobbiamo accogliere una presenza di Dio e dell'altro che mi è accanto come fratello e sorella. Su questa cosa lavoriamo, ci lasciamo sempre questi aspetti anche nel mondo e del mondo. Certo che è vero, condivido che tante volte c'è più, mi permette Paolo, questa demigrazione. All'inizio della settimana come vicario di zona insieme agli altri vicari della diocesi di Brescia siamo incontri con il nostro vescovo. E' uscito da parte in un dibattito della preoccupazione molto forte. Si parlava della Morris Letizia. Il fatto che effettivamente una coppia preferisce comprare e allevare un cagnolino o un gatto di che avere dei figli. Però queste sono scelte di vita che dicono una prospettiva. Ma io come cristiano non voglio vedere l'altro che sbaglia. Dico ma io come cristiano, io, io che sto parlando, che cosa faccio io per dare significato invece a ciò che io esprimo nel mio essere? E' in questo modo l'ora che supera. Cattamente continuiamo davvero, e va bene, ripeto, questi messaggi sono importanti perché danno l'opportunità di un dibattito, di un confronto, però non fermiamoci a quello che fanno di male gli altri. Guardiamo a quello che io devo e voglio fare di bene. Quindi continuiamo a guardare in mezzo bicchiere vuoto. Guardiamo invece cosa faccio io di bene. Com'è io che, con il mio sguardo, che cosa comunico quando guardo? Lo guardo in un certo modo, e sappiamo bene cosa vuol dire quello sguardo. Uno parla con lo sguardo e uno può anche ammazzare con lo sguardo o può far vivere. Questo per me è più importante, di che fermarsi a dare un giudizio, ma impariamo a superare o il giudizio o la critica, ripeto, ma questo non vuol dire che loro bisogna stare zitti, assolutamente no, bisogna dire sempre la propria, però fare il positivo. Certo. Tra l'altro c'era anche un altro messaggio dall'altra parte, guardi, San Giovanni XXIII o San Giovanni Paolo II dissero in maniera diversa, per esempio, che anche gli animali però hanno lo spirito di Dio e sollevarono delle polemiche, aggiungo io. Infatti dice niente di più, però la Chiesa fa fatica perché non riesce a credere che Dio ami tutte le creature, ma credo che sì, insomma. Però l'antropocentrismo, che non è solo della Chiesa, è anche della scienza, per esempio, eccetera, non ce n'è forse un po' di in eccesso in questo periodo? Ecco, no, dipende molto, esatto, se diventa unismo nel senso negativo, certamente, però nessuno mette in dubbio anche perché la creazione è voluta da Dio e anche Paolo nella sua lettera, nelle lettere romane, dice che tutta la creazione verrà ricapitolata nella resurrezione di Cristo, quindi non avrei problemi a pensare che anche gli animali entrino nelle lettere. polemica, non era ancora nato, però l'ho letta, la polemica di Giovanni XXIII, nacque quando consolò un bambino che piangeva perché gli era morto il gattino e gli disse lo ritroverai in paradiso. Apriti cielo da parte di alcuni vescovi. Allora, vediamo, parlavo di chiesa anche prima è arrivata la precisazione, sì, grazie. Allora, il gatto, saluto Angelica, adesso cerco di capire il messaggio, dorme sul divano e se ne va in palestra, sta a casa e va in vacanza. Salutiamo Angelica, non comprendo magari se può essere più preciso perché non capisco il suo messaggio. Ah, Angelo le chiede anche perché nel Padre Nostro si dice non ci indurre in tentazione, chiaramente Dio non ci induce, non sarebbe meglio dire fai che non siamo indotti, eccetera. Sì, di fatti è da due o tre anni che tutti, anche i nostri vescovi italiani nella nuova traduzione di fatti del Padre Nostro nella Bibbia della conferenza episcopale italiana c'è la traduzione che dice e non ci lasciare nella tentazione perché questa traduzione che è della nostra storia come traduzione medioevale rischia di dire effettivamente una cosa che non è vera che non è che Dio ci induca perché Dio non ci tenta ma dobbiamo chiedere che non ci lasci nella tentazione della forza per superare la tentazione. Quindi è una traduzione che dobbiamo tenere in considerazione. I vescovi italiani non hanno ancora deciso di cambiare nella formulazione perché si deve capire che di secoli di storia di linguaggio verbale dove uno dice non ci induce in tentazione imparare un'altra formulazione non è facile però è l'intenzione dei vescovi giustamente. Adesso l'errore è già nel latino era già lì Allora adesso grazie alla redazione mi ha aiutato Angelica dice il gatto dorme sul divano se uno va in palestra va in vacanza eccetera il gatto lo lascia a casa o lo mette nelle pensioni eccetera i bambini i notti li porti dietro invece Ah ok adesso anch'io chiedo scusa ma ci vuole un secondo che capisca anch'io è vero appunto per quello che uno deve assumere la propria responsabilità nella propria vita quando nella realtà di un aspetto di cammino di fede quando una coppia decide di essere copia nella fede nel sacramento del matrimonio penso che l'apertura alla vita sia una prospettiva positiva importante certamente quindi anche creare queste cose perché uno non vuole essere molto impegnato però dopo ognuno fa le sue scelte Allora Monsignore le chiediamo se ha ancora 4-5 ore da dedicarci perché è arrivata la domanda lei come vede le teorie di Darwin allora la affrontiamo per bene questo argomento allora riprendiamo alla volta prossima per cortesia una risposta standard pollice verso pollice ma no è da accogliere nel senso che c'è un fatto dell'evoluzionismo che è da accogliere certamente in una prospettiva che dice questo intervento di Dio che accoglie questa realtà non è una contraddizione nella fede certamente allora siamo quasi in chiusura vorrei chiedere a Monsignor Gattano Fontana se ci può ricordare comunque gli appuntamenti che ci saranno volentieri la settimana prossima per la parrocchia del centro quindi la parrocchia Santa Maria Assunta di Montichiari è una settimana importante perché viviamo la settimana pastorale mariana che è la settimana che ci introduce in maniera ufficiale all'apertura dell'anno pastorale vede due impegni particolarmente questa settimana il lunedì il martedì il mercoledì alle 20.30 nel Duomo si vedranno tre serate di esercizi spirituali con la presenza di un gesuita padre Cesare Bosatra che ci aiuterà a riflettere sulle sette chiese del libro dell'Apocalisse lunedì martedì e mercoledì e poi da giovedì a domenica vivremo quattro giorni invece spostandoci dal Duomo al centro giovanile perché quest'anno è il quarantesimo anniversario della costruzione del centro giovanile e quindi festeggeremo con delle realtà importanti dico solo una dopo potete vedere sul sito anche della parrocchia il resto venerdì venerdì prossimo quindi ci sarà alle 18.30 una santa messa concelebrata al centro con la presenza di tutti i sacerdoti curati del centro giovanile e alle 20.30 ci sarà un incontro dibattito adesso potete aiutare Paolo perché non avendo qui la cosa i due gemelli che erano nel Brescia anni fa che adesso sono due gemelli bresciani non mi viene come loro testimonianza erano calciatori famosi non mi ricordo di orzi nuovi vado in crisi io e chiedo scusa di questa di questa non mi viene comunque ci sono delle persone a livello sportivo non me lo ricordo faccio neanche lo sforzo perché non lo so non so il nome a livello sportivo a livello sportivo Manuele Antonio Filippini ok bravissimi la regia grazie una pausa la regia questo non è mio hai suggerito quindi grazie ecco i fratelli Filippini saranno presenti con un'altra campionessa di pallavolo che parlano un po' sul senso dell'essere sportive nella realtà anche cristiana con la presenza di Monsignor Paganini che è l'assistente spirituale del brisciacalcio e poi anche una testimonianza dei giovani che hanno partecipato di Montichiari alla GMG benissimo grazie beh grazie a Monsignor Gaetano Fontana grazie mille buona giornata a tutti